Vicenza Forzaim, un gemellaggio europeo trentennale nato sulla comune esperienza manifatturiera ad orofa d'eccellenza. Un gemellaggio consolidato nel tempo ma che all'indomani del lockdown vuole favorire ed estendere i campi di interesse verso nuovi ambiti culturali coinvolgendo le nuove generazioni. Il comune di Vicenza ha premiato due giovani creativi locali che sono stati selezionati dopo un concorso di idee per un nuovo logo e un omaggio digitale da scambiare con gli omologhi tedeschi. Quest'unione ho deciso di rappresentarla attraverso un ponte, un ponte che crea un legame tra due realtà completamente diverse. Secondo me ambientalmente è l'architettura che ti colpisce di primo avviso quindi ho deciso di rappresentarle tramite questo. I principali dettagli di Forzaim sono principalmente le torri che mi hanno molto colpito anche perché sono state ricostruite dopo la seconda guerra mondiale e anche questo monumento che è un monumento artistico che è elevato su un monte. Mentre di Vicenza c'è la basilica, la rotonda, monteberico deciso di rappresentare insomma gli elementi principali. Questo era un simbolo che sarebbe stato utilizzato poi anche sui moduli ufficiali quindi ho pensato una cosa semplice che potesse simboleggiare anche una cosa professionale, cioè un utilizzo professionale. Quindi le due bandiere di Vicenza e di Forzaim con i loro colori quindi il rosso e il bianco e il blu e il bianco anche per la bandiera di Forzaim e poi due simboli delle città come le arcate della basilica con il colore della cupola e la torre di Forzaim con il giallo che è presente sia nel logo che anche ovviamente nel payoff delle città dell'oro.